Ciao a tutti ragazzi, e allora c'è ancora normale perchè ne avevo provato a fare un'altra e non mi è andata cosa ho fatto? Ho perso, nooo C'è qualcosa di gratuito? Luca ti sta andando qualcosa di gratuito? No, no, non è gratuito, vabbè Comunque, vi ricordo che se non è che se non è attivare la campanellina Comunque siamo nel mio primo video da vanilla, episodio 1, abbiamo raggiunto sopra i 5 like E niente, quindi ho portato a volga, piccolo spoiler, nel prossimo video, no no, non ve lo dico Comunque siamo arrivati anche a 21 iscritti, non è veramente questa? Quella che non riesco mai a fare, vabbè, ci proverò, io ci proverò e ci riuscirò col vostro potenziale Allora, con soltanto in commenta, per voi mi potete rischiare cosa posso fare nella vanilla? Grazie Per questa mappa dovevo essere un pinguino E invece sono una scimmia Ci sono anche degli squali I dinosauri Che siete stinti E un personaggino di Amolgas Ovviamente qua con le palle che hanno colpito soltanto me Ma e poi, no raga, giuro che se mi colpiva così Eh, ma mi sta laggando a me o c'è troppa gente? Dobbiamo qualificarsi in 44? Io ho la tattica del nabbo Cioè, è quello che non è fortissimo Perché, questo qua lo so Bene, fai impostare Andiamo per la curva che è vero, lì è più veloce Veloce ma è più pericoloso Tocca, 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 tocca Tocca, tocca, tocca Sì, il tocaino Sì, il mio biricchino No, ecco Mi succede sempre così Mi blocco sempre alla fine, raga Sono sempre qua Visto tattica del pro Seguitele anche voi Però sono arrivato qua Mancavano poche qualificazioni No, no Non posso cadere così, raga Raga Mamma mia che qualificazione Sono arrivato a 42 esi No, raga Ma voi non potete capire Non potete capire Perché se vengo a questa esplodo No, non me la devo guffare Stavo per uscire Giù che sto per uscire Ma per sbaglio perché Ormai le perdo Ma ho detto Vabbè dai In persona Dio di Amor Guys C'è ancora Non è l'impostore Quindi O almeno speriamo Dai Carica mappa Perché Mi sembra che c'erano anche delle mappe nuove Proprio come quello O cambiate Per la season 4 Di Fall Guys Che ci stanno giocando Non sono sicuro Perché Non gioco da season 3 a Fall Guys Circa Più o meno Da season 2 Siamo lì Quindi Niente Questa Una normale Non mi capiterà mai Una in video Che sia diversa Che non sia una normale E una del passato Ecco Queste qua Sono bravo In questa Sono bravo Ma Tanto adesso che ho detto Che sono bravo Perdo 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 Perderò Però speriamo Di vincere Perché io sono una scimmia Sono il re scimmia Mammute Tu non sei Io sono una scimmia Sono più evoluta Dei mammute Guardate Che tattica Pam Espanso davanti Di 20 passi Tutti quanti stanno usando La tattica che Io ho ricopiato Da Da nessuno Però E basta E basta Spingi Grazie Grazie No 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 Vai Vai che adesso Pum Visto Sono fra gli ultimi Sono fra gli ultimi Non mi qualificherò mai Per primo In un video Quando non faccio i video Sono fortissimo Credo che faccio i video Mi sale l'ansia E non ci riesco Ho preso il coso Quindi anche se adesso Se adesso non ci riesco Per un pochino Mi butto Perché avevo preso il coso Da fuori Proviamo con questo Davos Se no provo normalmente Ce l'ho detto io Vai raga Vai raga Tutti al primo colpo Tutti al primo colpo Mamma mia Vai che mi qualifico No no Non prendere me Brava Vai Vai Sì Vai Me la sento Sento Di giocarmela Vediamo se il personaggio Andiamo Il gas è fuori È impostore No Si vede che ancora Non è impostore Per fortuna È un crewmate È normale Vabbè È uguale Comunque Ho lasciato un commentino Che lascia i cuoricini Ok Tranne quelli che Perché se Tranne quelli che mi insultano Se mi insultate Non vi lascio i cuoricini Ve lo dico subito Ah Iscrivetemi anche qualcosa Che posso fare Nella vanilla Fattibile No Non qualcosa Da pro Da pro Proglamer No Una cosa fattibile Come la farm Infinita di Nive Che io ho fatto Guarda lì Sì che era facile Ecco Ecco Sì Vai Ce l'ho riuscito Queste qua Mi portano di qua Ma se io faccio così In teoria La mia teoria È sbagliata Perché se io vado con lui Ecco Sì Sì La mia teoria Era giusta Visto Raga Raga Beh La palla più grande Del mondo Quella lì Cos'era No 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 Cacca Cadevo così Ok Tra un pochino Mi Sì Vado Fra questi Tre pugni Spero che avrebbero sperato La strada di niente è sempre la migliore Ecco Bravi Bravi Mie ragazzi Anche se quella veloce Quasi su mi starebbe aiutando Peccato Dovevo andare con loro Dovevo andare con loro Però l'hanno sbagliato qua Vabbè pure io Non è che Sto andando tanto bene Non mi qualifico Vabbè Allora ragazzi Abbiamo perso qua Ma non me ne frega Vi saluto qua Perché per oggi Per Andrea Trattino Basso È felice È tutto Vi ricordo di lasciare like Iscrivervi al canale Attivare la campanellina E ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao